E su questo piflano dell'aeronautica militare americana stiamo sorgolando Cape Canaveral e il leggendario Kennedy Space Center da Launchpad 39A e pronto lo Space Shuttle and Hammer per la sua ultima missione STS 134. E qui siamo, questa volta a 4 in manca, proprio a parte del bambino dell'aeronautica, dove l'aeronauti spendono la notte, la notte prima prima dell'aeronautica, da l'aeronautica in tempo della Apollo. Molto pronto lo vedremo STS 134 astronauti, coming out of the building, boarding the van, also a historical van, that will take them to the launch pad. It's just the final countdown for Endeavour. L'orologio è dietro di me. Da questo momento in poi non si fermerà più. Il Mission Management Team ha appena dato il go finale per il lancio. In meno di 9 minuti Endeavour decolerà dal launch pad 39A del Kennedy Space Center assieme al suo prezioso carico, l'Alpha Magnetic Spettrometer. Non mi resta altro che godermi questo countdown finale e go Endeavour, go AMS! N25-N24-Quali ci sono adattare il ballare, data il ballare è diventata e lo sviluppo in un'avva potente. ma è evidente che il nostro concerto è innovato in un'avvita. e qui, all'Earth, nel Kennedy Space Center, operazioni continuano per preparare per la prossima e l'ultima shuttle. Atlantis è davanti a me. È venuto da un building, dove è stato partito e processato per un anno, un anno dopo il suo ultimo trip. È ora trasformato in il veicolo assimile, il più volume del mondo, che sarà mato con gli altri due elementi del sistema shuttle, due solidi roccoboosters e l'externa per l'ultima flight che concludere il programma.